Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla festa della parte, chiediamo un attimo di attenzione, se mi chiede a comunare i ragazzi. Allora, io mi chiamo Flora e sono una studentessa dell'Istituto Floresta, un po' di me e altre mie amiche, dato che secondo noi la diversità è un elemento fondamentale della nostra scuola, abbiamo pensato di argomentare una spirata di vestiti buchi etnici che le ragazze del nord e suddito ci hanno portato. Allora, direi di cominciare subito con la prima ragazza che si dira quest'oggi, che è Irene. Grazie. 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 Grazie.